Silicone spray per fucili e pistole soft air, tanto che siano a molla, a gas o a CO2 o fucili elettrici. È indicato particolarmente poiché ha delle specifiche, delle caratteristiche tecniche tali che non rovinano le guarnizioni interne, siliconiche anch'esse. Il contenuto è 500 ml, confezione in bottiglia bombola in metallo, piccolo ugello per spruzzare le parti in maniera ravvicinata e dotato all'interno abbiamo l'intercambiabilità con quest'altro che è più lungo per arrivare laddove è più complicato, tipo parti di caricatore, eccetera. Si ripone facilmente, la parte viene agganciata nel tappo e si incastra, indispensabile per chiunque abbia armi soft air.